Voglio finire su un punto. Noi oggi abbiamo tre elementi chiave in ballo. Il primo, la proposta del Senato. Ma ci rendiamo conto che siamo a un passaggio in cui finalmente il numero dei parlamentari ha la prima risposta concreta dopo anni in cui se ne parla? Due, il ruolo delle regioni. Ci rendiamo conto che siamo gli unici a dare una risposta concreta? Tre, il sistema della legge elettorale. Oggi l'alternativa non è tra la sinistra interna del partito e il resto. Oggi l'alternativa è tra chi vuole provare a cambiare sul serio e chi vuole, pensa, che ci sia un'unica legge che può vincere il passaggio del no al ricorso. Possiamo avere una legge con ricorso? Sì, c'è un'unica legge che non avrà nessun ricorso alla Corte Costituzionale. È quella attuale. Io con questa legge elettorale non credo che sia giusto tornare a votare. Grazie.